Io sono RITPEX, tu stai ancora sul podio, al top del podio, quindi qual'è il tuo sentimento dopo una serie così impressionante di buoni risultati? Il mio sentimento è perfetto, come tutte le altre racconti che prima, la season è davvero buona, abbiamo vinto ancora e siamo davvero buona nella Coppa e spero alla prossima racconta in Sarno. Siamo arrivati per la Coppa e poi andremo per la Coppa. Sei il primo in stanza, perché hai avuto Ricca. Non ho raccontato, ma ci sono state prima, ma siamo arrivati molto vicino e l'abbiamo in Zwera. Come è Zwera per te? Gli piace? Sì, mi piace molto.